Settimana di festeggiamenti a tre case comune in provincia di Napoli per le solennità del patrono San Gennaro. Sono dieci comuni italiani che affidano al Santo, nato il Benevento e la loro chiesa. Iniziati il 14 settembre i riti proseguiranno fino alla sera del 23 quando nell'oratorio Giuseppe Tortora si terrà la rappresentazione sacra del martirio di San Gennaro a cura della compagnia Frizzi e Lazzi. Tutte le manifestazioni sono organizzate dal parroco Don Antonio Ascione in collaborazione con l'associazione San Gennaro APS l'amministrazione comunale di tre case, le associazioni del territorio, la comunità parrocchiale e la cittadinanza. Ma quest'anno c'è stato un evento particolare perché domenica scorsa durante la messa del mattino l'arcivescovo di Napoli, Monsignor Mimmo Battaglia, ha conferito il possesso canonico a Don Antonio Ascione. Al termine della celebrazione c'è stata la consegna dell'omaggio floreale al Santo Patrono da parte del sindaco Raffaele De Luca a nome dell'amministrazione comunale di tutti i cittadini di tre case. Successivamente particolare emozione ha suscitato lo svelamento del quadro di San Gennaro sul Sagrato della Chiesa. Domani in programma i solenni festeggiamenti fin dalle sette del mattino con la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco per finire alle 18.30 con la messa presieduta da Monsignor Pasquale Mocerino, rettore del Santuario di Pompei.